qui con noi a commentare la fantastica vittoria dei Cristianoni per 3 a 2 sul Campari Red Stefano Scigliano oggi man of the match se non altro per la splendida prestazione e sicuramente per il gol vittoria che è arrivato nel secondo tempo questo è per te, complimenti allora commentiamo subito questa bellissima partita un primo tempo davvero sfolgorante siete andati subito in vantaggio vi hanno ripreso col pareggio ma la vostra forza di volontà è sicuramente oggi il vostro miglior gioco hanno portato a questa bella vittoria sì, senza dubbio quello che hai detto tu non lo so in Bostana quello che hai detto tu è giustissimo loro erano, non sbaglio, i primi della classe erano buoni però noi ce l'abbiamo messa tutta per contrastarli ce l'abbiamo fatta grazie a questa vittoria non erano proprio i primi in classifica sicuramente una delle squadre che finora si era dimostrata più forte nel secondo tempo vi siete ringgiussi fondamentalmente in difesa anche perché gli avversari hanno tentato tutto per tutto nell'ultimo quarto d'ora della partita ma come abbiamo detto questa squadra dalla prima partita di campionato in cui ha perso 3-1 sappiamo anche con i fatti che sono successi è notevolmente migliorata un gioco veramente molto più pimpante e un agonismo che volta per volta ha portato sempre ottimi risultati sì, appunto, come dicevi tu, la prima partita abbiamo perso la seconda non mi ricordo comunque sì, ci stiamo conoscendo la bombagna riusciamo a spiegare un gioco migliore sotto quella della prima giornata quindi speriamo di continuare così va bene questo è tutto grazie a Stefano Sciano, man of the match, di questa bellissima partita e per stasera è tutto ci vediamo domenica con la sesta giornata Forza Juve Grazie a tutti